Vive nella provincia di Foggia la donna più longeva d'Europa, appoggio imperiale, centro agricolo dell'Alto Tavoliere. Si chiama Giuseppa Robucci, meglio nota come nonna Peppa, 116 anni, ottima saluta e tanta voglia di continuare a conservare il record europeo. Con i suoi 116 anni è la donna più anziana d'Europa e la seconda nel mondo. Nonna Peppa ha 5 figli, il più grande ha 90 anni, la più piccola, 76, senza dimenticare i 9 nipoti e i 16 pronipoti. Maria Giuseppa Robucci vanta anche un altro primato e anche la sindaca più anziana d'Italia, dal momento che nel 2015 è stata insignita del titolo di primo cittadino onorario di poggio imperiale il suo comune d'origine. Pugliese della Daunia sostiene che il suo segreto di longevità sia il mangiare poco e sano, ma per il suo 116esimo compleanno festeggiato con tutto il paese, immancabile una fetta di torta. Alla fine grande festa con alcuni gruppi folcloristici che hanno festeggiato insieme ad amici e parenti.